bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine del mio canale e dei miei video è sempre quello di denunciare di fondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie oggi amici parliamo di un caso veramente allucinante un caso che a tratti sembra davvero un film e sono curiosa di sapere se lo conoscevate già perché sinceramente io non ne avevo mai sentito parlare oggi parliamo di quello che è diventato noto come il delitto del mensa dunque ci troviamo nel 1988 in florida e qui troviamo la famiglia car formata dalla mamma peggy di 41 anni e dai suoi figli gelina allen e duane peggy è una mamma single da molti anni ha cresciuto i suoi figli praticamente da sola e non si sa in realtà dove sia il padre di questi ragazzi che fine abbia fatto si sa solamente che non era presente erano sempre stati peggy e i suoi tre figli i figli raccontano anche di aver visto la madre soffrire per amore quindi si presume che ci sia stata una brutta rottura con il loro padre e raccontano anche che questo li aveva resi molto più protettivi nei confronti della madre erano quindi una famiglia molto molto unita peggy lavora come cameriera in un ristorante e un bel giorno incontra un uomo quest'uomo si chiama pa parelin oddio non so assolutamente pronunciare questo nome parelin detto pai lo chiameremo pai e questo pai lavorava come minatore e in pochissimo tempo conquista il cuore di peggy i due si frequentano per un po e ben presto si sposano dopo il matrimonio peggy si trasferisce a casa di pai e si porta con sé due dei suoi figli gelina che sarebbe la più grande che tra l'altro ha un figlio a sua volta di due anni che va a vivere insieme a loro e duane che aveva 17 anni il terzo figlio allen non va a vivere con loro perché faceva parte della marina militare e in quel periodo viveva in una base navale nel tennessee pai il nuovo marito di peggy a sua volta altri due figli che vivono con loro temi e trevis di 18 e 16 anni quindi diciamo che diventa una grande famiglia allargata la casa di pai si trovava ad alturas che sarebbe una piccola cittadina in cui non succede mai niente e in cui si conoscono tutti ovviamente in florida in un documentario dicono che ad alturas ci vivano non più di 500 persone dicono che ci siano più piantagioni di agrumi che persone anche se in realtà io su internet ho trovato che il censimento del 2020 conti circa 4000 persone quindi non lo so forse negli anni 80 le persone erano 500 e sono diventate 4000 nel 2020 possibile vabbè però non è troppo importante direi 500 o 4000 rimane una piccola cittadina il 23 ottobre del 1988 peggy si trova a lavoro al ristorante insieme a sua figlia gelina che lavorava insieme a lei quando ad un certo punto inizia a non sentirsi bene peggy inizia a lamentare un forte dolore al petto le gira la testa si sente le mani formicolare ed è convinta di avere un infarto un cliente del ristorante che era un dottore però la rassicura dicendole che dai suoi sintomi non poteva essere un infarto di conseguenza peggy che già era una che di solito non si lamentava mai decide di ignorare quel malessere cosa ovviamente sbagliata però lei decide di ignorarlo e di continuare a lavorare ma purtroppo peggy continua a stare male sempre di più e quando arriva a casa e si butta sul divano riesce praticamente a malapena a muoversi i suoi figli chiaramente si preoccupano e cercano di convincerla ad andare all'ospedale ma peggy li tranquillizza dicendogli che sicuramente non era niente di grave poi il marito decide di chiamare sua sorella che era un'infermiera che si reca a casa loro e dopo averla visitata dopo averla visitata velocemente conferma anche lei che peggy sembrava non avere nulla di grave sì la sua pressione era un pochino alta ma secondo lei non era nulla di che ma peggy peggiora sempre di più inizia a star male di stomaco inizia a vomitare diventa sempre più pallida e non riesce nemmeno più a camminare i figli quindi dicono al marito pai di portarla all'ospedale non capivano che cosa stesse aspettando ma pai continuava a dire che peggy non voleva diceva che probabilmente era solo un virus intestinale ma per fortuna alla fine riescono a convincerlo e peggy viene portata all'ospedale quella notte a quel punto peggy stava soffrendo tantissimo diceva di sentirsi come se fosse in una palla di fuoco le faceva male tutto come se stesse letteralmente bruciando viva e nessuno riusciva a capire come mai perché tutte le analisi erano normali dai risultati sembrava che peggy stesse bene infatti i medici iniziano a pensare che il suo male sia di natura psicosomatica magari per il troppo stress le dicono ma peggy prende malissimo questa diagnosi si sentiva come se le stessero dicendo che se lo stava immaginando e nel frattempo lei continuava a soffrire tantissimo troppo perché si trattasse di un male causato da stress secondo lei aveva qualcosa qualche malattia gravissima che non stavano trovando ma dopo tre giorni passati in ospedale peggy inizia a stare meglio inizia a riprendersi i sintomi si alleviano lei ricomincia a mangiare e i medici decidono di dimetterla qualsiasi cosa avesse era passata quella sera quindi lei insieme a suo marito e a tutti i loro figli ordinano del pollo fritto e della coca cola e cenano tutti insieme convinti che il malessere di peggy ormai fosse solo un brutto ricordo ma il mattino dopo peggy si sente di nuovo male con gli stessi identici sintomi di prima ma questa volta a stare male non è solamente lei ma anche due dei ragazzi duane uno dei figli di peggy e trevis uno dei figli di pai loro due si sentono malissimo e anche loro con gli stessi sintomi di peggy quindi ovviamente pensano subito che qualsiasi cosa fosse era contagiosa questa volta vengono tutti portati subito in ospedale peggy duane e trevis e vengono fatti degli esami su tutti e tre e questo nuovo dottore che li esamina arriva ad una nuova conclusione un'ipotesi che non era stata vagliata prima ovvero che peggy e i suoi figli siano stati avvelenati dopo alcuni accertamenti infatti hanno la conferma peggy e i suoi figli erano in preda ai sintomi di un avvelenamento da metalli pesanti nella specifica avvelenamento da taglio il taglio sarebbe un metallo appunto che come componente viene spesso usato per produrre cose come per esempio degli insetticidi o il veleno per i topi ma a quanto pare in america era stato bannato negli anni 70 e questo proprio a causa della sua pericolosità perché era troppo tossico persino per essere usato per il veleno per i topi e questo in realtà rendeva la questione molto più misteriosa perché com'era possibile che peggy e i suoi figli fossero stati avvelenati da una sostanza che era illegale cioè capite non era un veleno qualsiasi il taglio era difficile da trovare quindi com'era successo o chi era stato purtroppo però peggy continua a peggiorare entra in una specie di stato vegetativo o meglio secondo i medici era ancora cosciente e riusciva a sentire se qualcuno le parlava ma aveva perso ogni funzione corporea non riusciva più a muoversi non riusciva più a parlare né a respirare da sola e poco dopo era anche entrata in coma i figli invece riescono a riprendersi e questo perché i livelli di taglio nel loro sangue erano molto più bassi rispetto a quelli della madre ma a quel punto chiaramente i ragazzi sono sconvolti sono terrorizzati e sono arrabbiati volevano sapere chi li aveva avvelenati chi aveva quasi ucciso peggy ma soprattutto volevano che questa persona pagasse a questo punto ovviamente vengono coinvolte le autorità perché quello molto probabilmente era stato un tentato omicidio e la prima persona su cui indagano ovviamente è il marito di peggy pai i figli di lei infatti raccontano che all'inizio della relazione la loro madre era molto felice con quell'uomo finalmente sorrideva di nuovo lui la faceva sentire amata ma dopo solo qualche mese dal matrimonio pai aveva iniziato a trasformarsi in una persona diversa aveva iniziato a trattare molto male peggy aveva iniziato ad essere molto aggressivo verbalmente la sminuiva litigavano continuamente e a pensarci bene pai non era mai stato male non era mai stato avvelenato e questo è molto sospetto agli occhi dei detective nonché agli occhi dei figli di peggy che a questo punto sono convinti che pai abbia avvelenato la loro mamma per magari per uscire da quel matrimonio senza passare dal divorzio nonostante fossero sposati da soli sei mesi inoltre vi ricordate che lavoro faceva pai pai lavorava in una miniera precisamente una miniera di fosfato e il taglio è un metallo e dove si trovano i metalli nelle miniere pai grazie al suo lavoro avrebbe avuto modo di mettere le mani su del taglio volendo i detective decidono quindi di interrogare pai ma lui si presenta in centrale con un biglietto in mano e comunica ai detective che quel biglietto era stato spedito a casa sua a casa loro dalla persona che aveva avvelenato peggy sul biglietto in questione c'erano scritte le seguenti parole tu e la tua cosiddetta famiglia avete due settimane per andarvene dalla florida per sempre oppure morirete tutti questo non è uno scherzo subito i detective hanno pensato se vabbè questo si sarà scritto il bigliettino da solo perché ha capito che stiamo indagando su di lui ma pai invece spiega che quel bigliettino era stato spedito in una busta a casa loro qualche mese prima dall'avvelenamento ma lui se n'era ricordato solo adesso e questa lettera era proprio indirizzata a lui pai car anche se sulla lettera il suo nome pai era scritto in modo errato c'era scritto pie invece che py e quando era arrivata questa lettera a casa racconta che sia lui che i ragazzi l'avevano preso come uno scherzo da parte di qualcuno mentre invece peggy si era subito spaventata moltissimo e voleva rivolgersi alle autorità ma alla fine non lo aveva mai fatto lo aveva infilato in un cassetto e se n'era dimenticata si era convinta anche lei che fosse davvero uno scherzo ma i detective non ci credono e rimangono con gli occhi puntati su pai perquisiscono la sua macchina il suo ufficio perché lavorava in miniera ma aveva anche un ufficio perquisiscono la sua casa e gli fanno anche degli esami e da queste indagini scoprono due cose che danno una svolta a questo caso ovvero la prima è che dalle analisi viene fuori che anche pai aveva tracce di taglio in corpo una dose anche abbastanza considerevole che sicuramente avrebbe recato gravi danni ad una persona di piccola statura ma che su di lui che era comunque un uomone grande e grosso non aveva avuto un grosso effetto si aveva effettivamente avuto qualche fastidio qualche dolore ma non ci aveva neanche fatto caso questo comunque diciamo che esclude pai dalla lista dei sospettati della polizia oddio non so se sia mai stato ufficialmente dichiarato un sospettato ma comunque lo escludono perché a quanto pare era stato avvelenato anche lui in qualche modo e oltretutto non avevano neanche trovato nessuna prova che riconducesse a lui anche perché se vi ricordate uno di quelli che si era sentito parecchio male era travis che è uno dei figli di pai successivamente infatti avevano fatto esami a tutti ed era risultato che tutti i membri della famiglia car avevano tracce di taglio in corpo chi più chi meno l'unica a non averne per niente era temi una delle figlie di pai e però il motivo ve lo spiego dopo ma comunque questo portava i detective a porsi una domanda perché pai avrebbe dovuto avvelenare anche se stesso e praticamente tutti i suoi figli cioè non aveva senso la seconda cosa che scoprono però è la più importante avevano analizzato tra le cose una cassa di coca cola che avevano trovato in casa dei car e all'interno delle bottigliette sia di quelle vuote sia di quelle piene ancora chiuse era presente il taglio e anche in grandi quantità vi ricordate che vi avevo detto poco fa che l'unica a non avere tracce di taglio in corpo era temi una delle figlie di pai ecco la ragione era semplicemente che lei non beveva coca cola e non avendo bevuto la coca cola non era stata avvelenata a questo punto la cosa si fa molto più grave spaventosa perché se le bottiglie di coca cola avvelenate erano ancora chiuse ancora nuove mai aperte significava che la manomissione era venuta alla fabbrica in cui la coca cola veniva imbottigliata scatta quindi una sorta di allarme acqua bomber o coca cola bomber chissà se ve lo ricordate so che una fetta del mio pubblico è giovanissima quindi forse no ma quando io ero piccola c'era stato questo allarme acqua bomber in italia ovvero c'era qualcuno che se non sbaglio non è mai stato preso correggetemi se sbaglio che manometteva le bottiglie d'acqua al supermercato cioè gli faceva un minuscolo buchino invisibile e gli iniettava del veleno all'interno o della candeggina se non sbaglio quindi la gente stava male e questi attacchi erano casuali quindi mi ricordo che ogni volta che andavo a comprare una bottiglia d'acqua da qualche parte la sbattevo la strizzavo mi assicuravo che non ci fosse nessun buchino e volevo anche farci un video su questa vicenda ma purtroppo non ci sono moltissime informazioni online ma comunque dovete sapere che in america c'è stato un fenomeno molto molto simile di cui tra l'altro invece ci sono valanghe di informazioni quindi magari in futuro farò un video su questo in cui praticamente qualcuno aveva iniziato a manomettere i flaconi di Tylenol che sarebbe un medicinale da banco per i sintomi influenzali insomma per la febbre tipo la nostra tachipirina anche se non so se il principio attivo sia lo stesso ma comunque per dire che è un farmaco molto comune nelle case degli americani ecco quindi qualcuno per un periodo nel 1982 quindi sei anni prima dalla storia che vi sto raccontando ma non metteva alcune pastiglie dentro i flaconi di Tylenol e pensate che ben sette persone sono morte a causa di ciò perché questa persona che cosa faceva apriva i flaconi di Tylenol ancora dentro la farmacia che dovevano ancora essere vendute apriva le capsule di Tylenol e le riempiva cioè le svuotava e le riempiva di cianuro di potassio e poi le richiudeva e prima o poi qualcuno se le comprava e se le prendeva e ci lasciava le penne di conseguenza quando viene fuori che un'intera famiglia americana era stata avvelenata probabilmente bevendo della coca cola ancora chiusa è scoppiato il caos la gente aveva paura a comprare il cibo nei supermercati non beveva ovviamente più coca cola i detective si recano quindi nella fabbrica che si occupava dell'imbottigliamento della coca cola più vicino alla città di alturas e ispezionano l'intero stabilimento nonché tutto il processo di imbottigliamento ma alla fine arrivano alla conclusione che le bottigliette non potevano essere state avvelenate lì spiegano che sarebbe stato possibile se una bottiglietta della cassa dei car fosse stata avvelenata ma che tutte e otto le bottigliette della cassa fossero state avvelenate in fabbrica cioè farle finire tutte e otto insieme nella stessa cassa non sarebbe stato possibile cioè spiegano che era proprio il processo di imbottigliamento della fabbrica che lo rendeva impossibile di conseguenza i detective capiscono che quella cassa di coca cola doveva essere stata manomessa dopo l'acquisto infatti dopo averle esaminate avevano notato che sotto al tappo delle bottigliette nuove c'erano dei piccoli graffi quindi qualcuno aveva aperto le bottigliette gli aveva versato dentro il veleno e poi le aveva richiuse per bene facendole sembrare nuove per poi consegnarle a casa dei car anzi pare che questa cassa sia apparsa a casa dei car cioè nessuno dei membri della famiglia si ricorda esattamente di averla comprata si ricordano solo di averla trovata già in casa e dato che loro compravano abitualmente coca cola insomma non si sono fatti troppe domande ma chi poteva essere stato nel frattempo peggy che era appunto caduta in coma purtroppo il 3 marzo del 1989 muore quindi adesso le autorità stavano cercando una persona accusata non solo di tentato omicidio ma di omicidio i figli di peggy prendono malissimo la notizia come si può ben immaginare uno di loro allen cade in una bruttissima depressione che lo porta anche a tentare l'estremo gesto ingurgitando tre flaconi di un farmaco nella speranza di non svegliarsi più fortunatamente però viene trovato in tempo e salvato ma questa storia stava per avere una seconda vittima quindi dovevano trovare il responsabile così da portare un po di pace a questa famiglia i detective a questo punto escludono tutti i membri della famiglia e iniziano a cercare il colpevole fuori da quella casa ma per quanto ci riflettessero non riuscivano a pensare a qualcuno che li odiasse così tanto da addirittura tentare di ucciderli iniziano quindi ad interrogare i vicini di casa in particolare si recano nella casa più vicina quella dei car in cui viveva una coppia di mezza età senza figli lui si chiama george trepal e sua moglie diana car che tra l'altro aveva lo stesso cognome della famiglia car ma sappiate che non c'era nessuna parentela tra loro è solo una grossa coincidenza e quando interrogano questo george trepal scoprono subito che fra lui e la famiglia car ci sono state varie dispute litigi cose da niente per carità cose da vicini di casa nulla di preoccupante george racconta che spesso i figli dei car tenevano la televisione a volume troppo alto o la musica a volume troppo alto facevano casino fino a tardi la sera e a lui e sua moglie dava fastidio quindi insomma c'erano stati un po di batti vecchi ma quando i detective gli chiedono cioè gli fanno una domanda in particolare domanda che però avevano fatto a a tutti cioè a chiunque avessero mai interrogato riguardo questa storia gli chiedono secondo te george perché qualcuno avrebbe dovuto avvelenare questa famiglia e george a questa domanda risponde prontamente così forse per farli andare via e questa frase colpisce i detective perché erano le stesse parole scritte su quella lettera minatoria che la famiglia cara aveva ricevuto vi ricordate avete due settimane per andarvene dalla florida per sempre perché se no morirete tutti questa frase mette george trepal in cima alla lista di persone di interesse per i detective che iniziano a scavare nel suo passato anche perché ovviamente non bastava quella frase per renderlo un sospettato né tantomeno per arrestarlo e d'altronde era anche assurdo pensare che per della musica un po alta qualcuno potesse avvelenare un'intera famiglia giusto i detective comunque chiedono a george se per caso se ne intendesse di chimica e lui risponde di no non ne sapeva proprio nulla e non sapeva neanche che cosa fosse il taglio ma successivamente scoprono che questa era una grande grossa bugia cosa che ovviamente aumenta i loro sospetti verso di lui scoprono infatti che non solo george trepal se ne intendeva di chimica ma che era una specie di walter white di breaking bad this is art this is white actually it's just basic chemistry but thank you jesse george se ne intendeva così tanto di chimica da aver lavorato in passato in un laboratorio per la creazione di anfetamine in north carolina e guarda caso il taglio viene utilizzato proprio nella produzione di anfetamine scoprono che nel 1975 era persino finito in prigione per questo motivo george era stato condannato a 36 mesi di carcere che aveva scontato e la gente che aveva seguito il caso allora aveva descritto george come il chimico più intelligente che avesse mai incontrato george era infatti molto intelligente così intelligente da far parte del mensa il mensa sarebbe un'associazione internazionale infatti esiste anche in italia ho scoperto di cui fanno parte le persone con un quotiente intellettivo molto alto cioè proprio è il requisito per entrare nel mensa avere un quotiente intellettivo più alto della media o è un'associazione di geni insomma di persone molto intelligenti ecco george faceva parte di questa associazione il che dimostrava che fosse una persona con un quotiente intellettivo molto elevato insomma il suo profilo era compatibile con quello del killer che i detective stavano cercando erano certi che george fosse il responsabile dell'avvelenamento dei car ma dovevano trovare un modo per dimostrarlo ed è proprio a questo punto che entra in scena l'agente speciale susan gorek che aveva il compito in principio di sorvegliare e seguire george sperando in qualche suo passo falso susan racconta di dover stare molto attenta perché george possedeva una memoria fotografica impressionante quindi c'era il rischio che se l'avesse vista l'avrebbe poi riconosciuta e la sua copertura sarebbe saltata ma dopo tre mesi di pedinamenti susan non scopre nulla di nuovo e le indagini rimangono in un vicolo cieco decidono quindi che susan doveva trovare il modo di avvicinarsi di più a lui susan doveva andare sotto copertura e doveva diventare amica di george in qualche modo l'operazione viene nominata pale horse titolo di uno dei libri della grande agatha christie in italiano tradotto un cavallo per la strega in cui uno dei protagonisti avvelena qualcuno proprio con il taglio il modo più facile di avvicinarsi a lui era quello di entrare a far parte del mensa sarebbe stato più facile e meno sospettoso avvicinarsi a lui facendo parte dello stesso gruppo diciamo susan scopre così che proprio quel fine settimana tutti i membri del mensa della zona avrebbero partecipato ad un evento un evento organizzato proprio da george e da sua moglie in un hotel e questo evento amici era niente meno che una cena con delitto susan quasi cade dalla sedia quando lo scopre c'è un potenziale omicida che organizza una cena con delitto quanto è ironica questa cosa comunque susan che usa ovviamente un nome falso riesce ad infiltrarsi e partecipa a questa cena con delitto per chi non lo sapesse la cena con delitto è un gioco è tipo un cluedo ma in carne e ossa qualcuno muore per finta ovviamente e tutti i commensali devono risolvere il caso insomma attraverso varie prove enigmi da risolvere cose così e questa cena con delitto sarebbe stato un evento di ben tre giorni si chiamava mensa murder mystery weekend quindi susan si reca lì e inizia in modo molto casual a chiacchierare con george gli dice di chiamarsi sherry gwynn e di essersi trasferita lì da poco dopo un brutto divorzio chiaramente susan la detective aveva studiato il profilo di george insieme ad un profiler dell'fbi e insieme si erano studiati nel dettaglio la personalità che susan doveva avere sotto copertura il profiler aveva detto a susan che tra george e sua moglie lei era quella dominante quindi susan per fare presa su di lui doveva puntare al suo ego doveva pompare il suo ego inoltre george a quanto pare odiava gli avvocati in particolare quindi decidono che susan doveva essere una donna che aveva recentemente divorziato proprio da un avvocato decidono che susan doveva odiare il suo ex marito avvocato così da avere una sorta di odio condiviso con george insomma susan conosceva tutto di george e sapeva esattamente come manipolarlo per portarlo a fidarsi di lei più george si fidava di lei più era possibile che si sbottonasse e che confessasse il suo crimine e la cosa diciamo che funziona l'evento procede per il meglio e iniziano a giocare alla cena con delitto ad ognuno viene assegnato il proprio personaggio e quando george inizia a parlare del delitto del primo delitto di questo evento quello del gioco intendo susan è evasita il delitto che george aveva pensato per il suo gioco era guarda un po un avvelenamento qualcuno era stato avvelenato e uno degli indizi per scoprire il responsabile era proprio una lettera un bigliettino anonimo e minatorio e un altro degli indizi era ancora più inquietante c'era un paragrafo in particolare scritto da george stesso che diceva quando una lettera minatoria appare alla porta le persone prudenti buttano via tutto il loro cibo e stanno attenti a quello che mangiano molti oggetti alla porta sono semplicemente un modo dei vicini di dirti non mi piaci trasferisciti o vedrai susan ha letteralmente i brividi quelle erano le parole quasi esatte del bigliettino che la car diceva di aver ricevuto mesi prima dal loro avvelenamento e che non avevano mai preso sul serio ormai era chiaro george aveva avvelenato la famiglia car perché li odiava odiava che facessero rumore che ascoltassero la musica e adesso la cosa più raccapricciante era che george quasi si vantava della cosa organizzando cene con delitto basate sul suo delitto ma susan la gente sotto copertura ha bisogno di prove concrete era convinta che questa missione sarebbe durata solo qualche mese e invece dura molto di più dura un anno un anno intero in cui lei deve fingere di essere amica di george deve frequentarlo deve guadagnarsi la sua fiducia susan racconta che quell'anno è stato deleterio per lei perché george era una persona a dir poco sgradevole cattiva infima ed è stato molto difficile per lei far finta di andarci d'accordo una volta per esempio susan gli stava parlando del suo fantomatico ex marito avvocato parlava male di lui per vedere la reazione di george e george inizia a darle un sacco di idee su come avrebbe potuto sbarazzarsi di lui tutte cose incredibilmente crudeli ma allo stesso tempo codarde come per esempio le dice potresti mandare una lettera anonima alla polizia o al suo studio legale accusandolo di aver molestato un bambino così gli rovineresti la vita cioè potenzialmente gli faresti perdere il lavoro gli rovineresti la reputazione per sempre oppure un'altra cosa che le racconta che la dice lunga su che persona fosse e che lui insieme a sua moglie a volte andavano in giro in macchina e quando incontravano degli autostoppisti li facevano salire e gli offrivano dei biscotti con all'interno delle droghe allucinogene ma ovviamente senza dirgli che i biscotti erano drogati così che i ragazzi chiaramente iniziavano ad avere allucinazioni e tanti andavano nel panico perché non capivano che cosa gli stesse succedendo e george e sua moglie si divertivano a guardarli andare fuori di testa per poi abbandonarli e andarsene susan racconta di essere terrorizzata da lui per tutto il tempo aveva il terrore che lui le facesse del male o che l'avvelenasse o che la scoprisse racconta che ogni volta che mangiava insieme a lui se le capitava di doversi allontanare dal tavolo per andare in bagno che ne so quando tornava non mangiava più nulla tanta era la paura che le avesse avvelenato qualcosa perché spiega che george non era una persona aggressiva che che ne gli potevano prendere i cinque minuti e poteva aggredirti o ucciderti con una pistola no george era una persona deviata sadica a cui piaceva fare del male agli altri ma da lontano per poi sedersi e godersi lo spettacolo george si vantava anche molto della sua intelligenza e diceva sempre a susan di riuscire a capire quando la gente mentiva dai muscoli del loro collo tipo dal modo in cui muovevano i muscoli del collo quindi immaginate l'ansia che susan doveva avere tutto il tempo ricorda infatti che prima di incontrarlo ogni volta doveva sedersi un attimo e ripassare tutte le bugie che gli aveva raccontato per non dimenticarsene nessuna per non tradirsi dopo un anno passato in questo modo george dice a susan che lui e sua moglie stavano per trasferirsi dicevano di volersi trasferire già da un po e alla fine erano riusciti a trovare un'altra casa e a spostare l'attività della moglie quindi di lì a breve si sarebbero trasferiti in un'altra città a sebring e al che a susan viene un'idea gli chiede di potersi trasferire lei nella loro casa di alturas gli chiede di poter diventare la loro inquilina e di pagargli l'affitto in questo modo i detective avrebbero potuto entrare in casa e perquisirla ma soprattutto esaminarla perché fino a quel momento non avevano potuto non erano mai riusciti ad ottenere un mandato di perquisizione george accetta e non appena susan firma il contratto e ha in mano le chiavi della casa fa entrare i suoi colleghi e la scientifica che esaminano tutto prendono campioni da ogni angolo della casa principalmente cercando tracce di taglio la cosa che avrebbe fatto rabbrividire qualsiasi nuovo inquilino è che la casa di george era in condizioni pessime sembrava che non pulisse da mesi ma per susan in realtà questa era un'ottima notizia perché così c'erano più possibilità di trovare vecchie tracce incriminanti trovano infatti diverse boccette che mandano ad analizzare in laboratorio e susan spera con tutta se stessa di ottenere risultati in qualche settimana così che quella tortura di vivere sotto copertura sarebbe finita ma purtroppo proprio in quel periodo c'era stato un caso di terrorismo o comunque qualcuno aveva piazzato delle bombe quindi l'fbi era completamente oberata con quel caso di conseguenza avrebbero dovuto aspettare più tempo per i risultati delle analisi nel frattempo però susan non può far allontanare troppo george e quindi decide di dargli appuntamento in una zona picnic di un parco a sebring che era la cittadina in cui si era trasferito george che si trovava a circa 50 minuti di macchina da alturas e una volta lì fa la finta tonta e gli dice george ma forse ti sei dimenticato di dirmi qualcosa è successo qualcosa nel tuo vicinato no perché sono venuti dei detective a cercarti e questa tra l'altro era la prima volta che si spingeva così in là parlandogli direttamente di quel delitto e al che lui risponde ah sì i vicini di casa sono stati avvelenati che susan gli dà il bigliettino da visita dei detective dicendo che volevano parlare con lui e a quel punto george inizia a diventare molto nervoso e dice cose tipo spero di non essere io il loro sospettato sarebbe un disastro e ad un certo punto durante questa conversazione george inizia a chiedere in modo anche piuttosto insistente a susan di andare a casa sua voleva assolutamente farle vedere la sua nuova casa ma susan declina l'invito anche perché aveva la brutta sensazione che george si fosse insospettito nei suoi confronti quindi con una scusa se ne va e finalmente dopo tre lunghi mesi arrivano i risultati delle analisi di laboratorio fatte sulle boccette trovate in casa di george e contenevano tracce di taglio e questo consente ai detective di ottenere un mandato d'arresto per george trepal che viene finalmente arrestato nell'aprile del 1989 per l'uccisione di peggie carr e amici quando le autorità perquisiscono casa sua trovano diverse cose molto inquietanti trovano per esempio un mucchio di fogli presi da svariate riviste scientifiche tutti messi insieme con sopra la scritta guida generica all'avvelenamento trovano anche un libro che parlava nello specifico di come riuscire a rilevare i diversi tipi di veleno all'interno del corpo e infine trovano una stanza che george stava ancora finendo di costruire una stanza segreta che stava facendo costruire alle spalle di un'altra stanza senza finestre e che aveva fatto completamente insonorizzare al centro di questa stanzetta c'era un letto e attaccate alla testiera del letto c'erano delle manette cioè amici quella sembrava a tutti gli effetti una stanza in cui potenzialmente tenere prigioniero qualcuno per fortuna le autorità non trovano tracce di dna né tracce di sangue o fluidi corporei quindi probabilmente non aveva ancora avuto il tempo di usarla infatti era ancora in costruzione ma susan la detective è convinta che quel giorno quando george continuava a chiederle di andare a casa sua probabilmente voleva collaudarla probabilmente voleva che susan fosse la sua prima prigioniera e la sua ennesima vittima la moglie di george viene interrogata ma non viene mai accusata di nulla mentre invece george viene accusato della morte di peggy e di diversi altri capi d'accusa per aver avvelenato anche tutta la sua famiglia ovviamente susan la gente sotto copertura che ormai non è più sotto copertura testimonia al processo quindi finalmente rivela la sua vera identità e la moglie di george diana a quel punto un giorno va da lei fuori dal tribunale e le urla in faccia le seguenti parole spero che tu sappia quanto sei stronzo comunque lui si dichiara innocente e la sua difesa punta tutto sul fatto che le prove contro di lui erano tutte circostanziali e che c'erano altri possibili sospettati che le autorità non avevano neanche mai considerato per esempio sua moglie cioè la sua difesa era di buttare tutta la colpa su sua moglie che carino comunque alla fine george viene dichiarato colpevole di ben 15 capi d'accusa e viene condannato alla pena di morte amici addirittura mediante iniezione letale ad oggi però george trepal ha 74 anni e si trova ancora in prigione nel braccio della morte che aspetta di essere giustiziato dopo più di 30 anni e in tutti questi anni ha sempre mantenuto la sua innocenza il suo arresto e la sua condanna sono comunque stati uno shock per molte persone cioè per molte delle persone che lo conoscevano soprattutto i membri del mensa che lo conoscevano e molti di loro credono ancora alla sua innocenza anzi in realtà c'è molta gente che crede alla sua innocenza per i motivi che vi dicevo prima ovvero che le prove contro di lui sono comunque circostanziali e che di conseguenza queste persone insomma pensano che lui non sia colpevole oltre ogni ragionevole dubbio insomma ci sono state molte controversie su questa sentenza ma il giudice si è espresso per quanto riguarda la famiglia car i figli di peggy si sono espressi e due di loro hanno detto di aver perdonato george anzi addirittura non vogliono che venga giustiziato pensano che la morte non sia una soluzione alla perdita della loro mamma mentre invece allen che comunque era il figlio che forse ha accusato di più la perdita di peggy vi ricordate ecco lui non è assolutamente d'accordo con i suoi fratelli e pensa che solo la morte di george porterà un po di pace nel suo cuore cioè pensa che la morte sia l'unica punizione adeguata per george sua moglie invece la moglie di george diana ha divorziato da lui nel 1996 e non è mai più andata a visitarlo e nel 2018 è mancata a causa di un ictus mentre invece la detective susan sempre nel 96 ha pubblicato un libro che si chiama poison mind mente avvelenata in cui racconta tutta la vicenda e tutti i dettagli che ha vissuto in quell'anno passato sotto copertura a stretto contatto con george trepal queste amici sono tutte le informazioni che avevo su questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già fatemi sapere che cosa ne pensate sono curiosa di sapere che cosa pensate voi cioè pensate che george sia colpevole o pensate anche voi che non ci fossero abbastanza prove per condannarlo addirittura a morte non dimenticate di essere gentili nei commenti mi raccomando e come al solito io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao